Il time out per l'Italia, andiamo a rivedere ciò che è successo, quindi metto una mano sul colo, poi attenzione, la spinta è incambiare, di solito ci si ferma qui e invece brutta cosa del grado, decisamente una brutta cosa. Non ve lo aspettate, effettivamente, il giro addosso lo spinge a volte, come dire.